Spai che hai fatto un ottimo lavoro catturando quelle scimmie, credo che non ce ne siano altre. Grazie professore, sembra che siano sempre più intelligenti. Attenzione, attenzione, abbiamo rilevato una serie di eventi mai riscontrati prima nel nostro database. Si ritiene possa trattarsi di un'invasione aliena. Alieni? Un'invasione? Sembra che la causa sia un tipo di forza. Senza ulteriori dati possiamo solo ipotizzare che si opera di Spectre. Spectre? Non possiamo più attendere altre informazioni Spike. Se c'è dietro Spectre l'intero pianeta potrebbe essere a rischio. Sai cosa devi fare. Pronto professore? Mi spiace ma posso darti solo queste armi per catturare le scimmie. Va bene così professore, non mi serve altro. Ok, quindi è inizio l'archade di Spike. Pronto? Combatti! Ok, perché sto imparando il Kumag? Ok, ok. E' inizio l'archade di FIGU! FIGU! Due uccisioni! Due uccisioni! Aspetta, è così che si fa la scimmia. Ecco qui. Ok, ti sto facendo il mazzo. Due uccisioni! Tutto assenza. Ah ok What? in 14 come hai usato infame accetti 1 fine au cio Pronto, combatti! Ok, questo è il momento per una livello 3. Aspetta, eh... Ah, ecco! Posso alzare la sciglia! Ah, no! Prendete, gente! Boomba! Sto entrando! Eh? Vabbè! Prezi! Banana! Eh, wait! Cosa? 2, 1, fine! È assurdo questo! Cosa? Cosa? Pronto? Ok! Combatti! Cosa? 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 E no! Lo prendi! Ecco qua! Ecco qua! allora preso E' ora delle maniere forti! Trupla! No, non prendo niente! Se tu che ne devi prendere! Il proprio risultato sì! Sì! E' ora preso col cattivo corpio onda! Che cacchio ne so vado! No perché sei minorenne, te l'ho già detto mille volte! Guarda il tuo punto! E' il coraggio di guardarci negli occhi e sfido! T'ho indovinato! Aia! Prendi! Aia! Ecco fatto! Cacchio! Cacchio! Mancano 10 secondi! Ha giusto tu sei col cattivo vero! Cacchio! 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 Ne ho fatta una trip! Ho fatto una trip! Ho fatto una trip! 1! E vai! 9 uccisioni! In risultato niente male! Ok! Pronto? Combatti! Ti piace? Aia! Che figata qua! Questa moscia! 3! 3! VINCE! 2! 3! 1! 3! 3! 1! la tec di ghiaccio pochi simpatico no bravissimo ok libero 1 nemmeno male che non hai colpito nessuno sacboi oddio muoio cosa la cosa una uccisione da cosi e tu devi congelarti Radek provato un ottimo alla parata no mancano dieci secondi no 3 2 1 perfetto ok passiamo alle 3 uccisioni con kratos con il costume di suo fratello che non mi ricordo come si chiama c'è il fratello di kratos che non mi ricordo il suo nome doppio molto con il livello ho preso il paura un po' di romanzo prezzi Pronto? Pronto? Combatti! Out! Prendi! Ti piace? No, non mi toccare neanche! La mia infabilità con quell'arma è indiscusso in tutto il multuniverso! E' ora di fare la finita! La finita! La finita! La finita! Cosa stai facendo? Era quasi finito! Play off of Spike! Just a little monkey! Quelle scimmie cercano di impadronirsi del pianeta! Ok! Che la lotta comincia! Fight! E iniziamo con 44 pugni in pancia! No! No! Livello 1! La banana ha fallito! Livello 1! Ok! Ok! Ti piace? Livello 2! Wow! Un potente! Sei finito! preso! Rob glyco Carar. Yeah! E'呀! Un po' Un po' Un po' Un po' Un po'! Un minuto! Ah! E'呀! No! No! Scorto! ok non è un vieni qua come hai osato personalmente la pagherai o se la pagherai la pagherai per questo ti piace? aia a quanto pare dobro uccidetti con la livello 2 aspetta non è venuta un'idea prenderlo ora non ci credo prenderlo 1 preso no way prenderlo 1 Preso Hai rotto le palle Nivello 1 Preso Cosa? Mi stai? Nivello 1 Posso portare la domanda esistenziale? Perché non muori? Nivello 1 Perché sei ancora in vita? Nivello 1 Come è che non riesco a beccarlo? Nivello 1 Nivello 1 Vuoi? anche fortuna io è dead oh ciao kratos come vedi anche ho due spade prendi questo posso usare bravissimo kratos così si fa facilmente il mio il mio città non Cacchio, questa arma è inutile in questo contesto. 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 Cacchio.